Da quasi due anni viveva alla foce del Tesino. Il suo giaciglio era formato da sassi di fiume e da qualche coperta a poca distanza dal mare. Ma questa mattina il giovane senza tetto del Mali è stato sgomberato e portato in ospedale a seguito di un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio firmato dal sindaco di Grotta Mare Enrico Piergallini. Un'operazione congiunta che ha visto sul posto carabinieri, polizia locale e personale sanitario che hanno faticato non poco a convincere il giovane ad andarsene da lì per il suo bene. Negli ultimi giorni infatti le temperature notturne sono arrivate prossime allo zero e due allerte meteo per il rischio drogeologico hanno messo in apprezzione tutti per le sue sorti. Sarebbe andato incontro a morte praticamente certa, detto il primo cittadino Grotta Marese Piergallini, presente all'operazione di sgombero andate avanti per almeno un paio d'ore. Il giovane africano in questi mesi è stato assistito dalla Croce Rossa italiana ma ha sempre rifiutato qualsiasi alloggio o soluzione alternativa a quello che si era scelto. Aveva paura di essere rimpatriato nel proprio paese d'origine dal quale era scappato, ma la situazione era diventata insostenibile e stamattina si è deciso di agire. Sul posto sono arrivate due ambulanze con il primario del reparto di psichiatria Marco Giri. Il giovane si è subito rifiutato di allontanarsi dall'area, lo ha fatto in maniera ferma ma senza mai dimostrarsi aggressivo. Sia il sindaco che il dottor Giri hanno cercato di fargli capire che si trattava di una soluzione presa per la sua incolumità, ma l'uomo ha gridato più volte di non voler andarsene da lì. Alla fine hanno dovuto sedarlo per portarlo a Madonna del Soccorso dove si trova attualmente ricoverato.